Sono Lanciallotti Marco, un lavoratore dello Attificio Fortunato, giorno 9.05.2018 mi è stato recapitato un telegramma dove venivo espulso cautelativamente dall'azienda, senza nessuna motivazione, senza nessuna causa. Io ad oggi sono molto preoccupato per il mio futuro e per il futuro della mia famiglia. Ho tre figli e quindi questo mi preoccupa tanti.